Grazie, grazie signora Presidente, signore deputate, signori deputati. Sono davvero onorato di essere qui con voi stamattina, in quasi vent'anni di esperienza parlamentare, da semplice deputato, da Presidente di Commissione, da Ministro, da Primo Ministro, ho imparato una cosa fondamentale. Con i rappresentanti eletti si dialoga e ci si confronta, sempre, e ad essi si risponde. L'audizione di oggi è la prima occasione per farlo e so che molte ne seguiranno se sarò confermato commissario. Se dovessi racchiudere in due sole parole il senso di rimarcia che intendo imboccare, userei le parole ambizione e condivisione, un programma ambizioso e condiviso. Negli anni che abbiamo alle spalle, nonostante il superamento della crisi economica e il ritorno della crescita, le sfide non sono certo mancate e sono ancora aperte davanti a noi. Brexit, con le incognite che ancora ne circondano l'esito, la diffusione in una parte dei nostri concittadini di un sentimento di diffidenza e, in certi casi, di ostilità verso l'Unione, l'incertezza geopolitica, gli interrogativi legati alla velocità dei cambiamenti tecnologici, l'affiorare di paure identitarie. Certo, le sfide da fronteggiare hanno diversa intensità da Paese a Paese, ma ovunque si manifesta la contraddizione tra la crescita economica e la sua insufficiente sostenibilità sociale e ambientale. I cittadini europei pretendono risposte. Pensiamo alle ragazze e ai ragazzi nati in questo millennio. So che noi non vogliamo deludere le loro ansie sul cambiamento climatico e so che vogliamo tutti impedire che per la prima volta nella nostra Unione ci sia una generazione con minori opportunità rispetto alle opportunità delle proprie madri e dei propri padri. La mia generazione ha avuto tanto dall'Europa Unita. E io ho avuto l'onore di ricordarlo proprio nella mia città, a Roma, con la solenne dichiarazione con cui i capi di Stato e di Governo e i presidenti delle istituzioni europee hanno celebrato i 60 anni dei trattati. La pace, la libertà dalle dittature, i diritti individuali, il modello sociale europeo, la fine della divisione dell'Europa, di cui proprio oggi, il 3 ottobre, si ricorda una tappa decisiva, la rionificazione della Germania. Gli straordinari risultati ottenuti ci indicano quanto ambiziosa debba essere il nostro programma per raggiungerne di nuovi. «Nous ne pouvons nous arrêter quand autour de nous le monde entier est un mouvement». Queste parole di uno dei fondatori dell'Europa Unita, Jean Monnet, non sono mai state così attuali. È una responsabilità enorme e sono certo che di questo orizzonte ambizioso, Commissione e Parlamento, possono essere i più strenui paladini. Per l'ampia parte, se confermato, mi preparo a vivere questa responsabilità con umiltà e coraggio. L'impegno per l'Europa è sempre stato al centro del mio lavoro politico e ha orientato la mia azione nel Governo italiano in anni recenti. Affronto dunque con particolare entusiasmo questa sfida da italiano e da europeo. Honorable Members of Parliament, in her political guidelines, the President-elect stress her vision for a Europe leading the transition to the healthy planet and a new digital world. Europe can only lead by first bringing people together and upgrading our unique social market economy. This vision will be my guiding principle. I will work closely with the executive Vice President-designate, Valdis Dombrovskis, and with the other members of the College to respond to the legitimate demands of Europeans. Prosperity, stability, and protection. My roadmap as commissioner for economy will be based on the priorities identified in the President von der Leyen mission letter. I have been committed to the environmental cause since 35 years ago. Today, we all feel the sense of urgency to act to protect our climate. efforts. This will require initiatives on many fronts. Sustainable, inclusive growth is the number one priority. I will favor close partnership with member states through regular and intense dialogue with governments, social partners, and citizens as part of the economic surveillance. I'll work to integrate the sustainable development goals in the European semester without losing focus and impact. Sustainable, inclusive growth also means social sustainability. Growing inequalities are affecting our European social model and should be addressed with strength and urgency. Reduce the gender gap will be a priority for inclusive growth. One of the key actions will be the delivery of the European unemployment insurance scheme. I know that this house has been calling for such a scheme for a long time. Politically, it will not be easy. But together, we can deliver a scheme that will offer protection for citizens during difficult times in their lives. I will oversee the application of the stability and growth pact to ensure sustainable public finances. I will make use of flexibilities with the rules when they are needed to deliver an and appropriate fiscal stance, enable fiscal policy to play a stabilizing role and promote much-needed investment. In implementing our rules, I will focus on public debt reduction as someone who cares deeply about the potentially destabilizing impact of high debt in bad times. I will also deal with an adequate use of fiscal space to face to face the risk of a slowdown in our economy. Of course, the stability and growth pact is not perfect. I will use the opportunity served by the review of the six and two pacts to reflect on the right way forward. Based on evidence from the past and taking in account the contribution from the European fiscal board. And you will sure have a say on this. I will launch InvestEU and the sustainable European European investment plan as a matter of priority. The transformation of our economy strongly needs investments. Investments to deliver energy transition, green our economy and meet our carbon targets. Investments on research, innovation and digitization. Investments in sustainable infrastructures. Social investments. Action is also needed to reinforce our single currency. Completing economic and monetary union is a priority for the president elect and is one for me too. I would like to pay tribute to this House and this committee in particular for your ambitions in this area. A breakthrough will underpin stability, foster confidence and resilience in the Euro area economies, strengthen the international role of the Euro, which is a geopolitical priority for us. Honorable members of Parliament, 74% of citizens agree that the EU should do more to fight against tax fraud. I am determined to work towards a fair and effective taxation in the EU. My first priority will be to make sure that taxation fully contributes to the European Green Deal. For my part, I will work for a new environment taxation framework to steer the behavior of users, consumers and producers towards a climate neutral economy. I will assess a range of measures, including updating the energy tax directive to align it with environmental objectives and working on a carbon border tax at EU level compatible with WTO rules. In so doing, I will be vigilant that this framework is just and socially balanced. And I also want to assess the use of the pastoral clauses and other legal instruments in the treaties that allow tax proposal to be adopted with qualified majority votes and by co-decision. My second objective is the European contribution to the reform of the international corporate tax system to make it fit for the 21st century. It is clear to everyone that the current system is out of date. The transition to a digital economy has led to a growing disconnection between where value is created and where tax is paid. Moreover, tax competition distorts business decisions and leads to tax policies aimed at short term revenue collection. Discussions on modernizing international corporate taxation are now underway in the G20 supported by the OECD. By the end of next year, we will need to take stock of the international discussions. If no consensus emerges, I am tasked to lead efforts for a fair European digital tax and for a common corporate tax base. My third priority is to keep fighting against tax fraud and evasion, which erodes EU citizen trust in taxation systems. I want to benefit taxpayers who play according to rules and focus punitive action on those that do not. Finally, I am also proud to be the commissioner in charge of the customs union, a core element for the European project which safeguards our single market. Many take the customs union for granted, but tensions around the globe on trade, security, changing business model and the rise of e-commerce reinforce the need for a strong customs union. I will strive to bring the customs union to the next level of effectiveness. Not only my plans, but all the priorities indicated by the president elect will require a solid base of reliable statistics. I attach great importance to defending the professional independence of Eurostat and the national authorities. I will make sure that Eurostat remains the trustworthy point of reference for statistics and data on Europe. Signora Presidente, Signore Deputate, Signori Deputati, Ho ricordato solo alcuni dei principali obiettivi che, se sarò confermato, intendo affrontare nel corso del mio mandato. Per raggiungerli, in molti casi, avremo bisogno di un impegno politico straordinario e da parte mia farò ogni sforzo per promuovere soluzioni condivise. Conosco e rispetto le diversità di opinioni tra famiglie politiche, tra Paesi membri, tra distinte aree geografiche europee. Ma è interesse di tutti evitare che queste differenze alimentino pregiudizi e si cristallizzino al punto da frenare il nostro cammino in un mondo in veloce trasformazione. Sarebbe un tragico errore. La mia esperienza politica non è breve. Mi è dunque molto chiaro che si tratta di offrire soluzioni, di cercare e negoziare compromessi, di promuovere il lavoro collegiale della Commissione. E soprattutto si tratta di coltivare il bene più prezioso, la fiducia tra tutti gli attori coinvolti. Voi sarete il mio riferimento stabile, attraverso consolidate procedure di dialogo. Riferirò alla Commissione parlamentare Econ prima di ogni decisione rilevante del semestre europeo. Lavorerò con voi, in particolare, sulle nuove priorità indicate dalla Presidente von Berlin. La centralità del rapporto con il Parlamento non è per me solo un modo per rispettare le buone regole interistituzionali dell'Unione. È una scelta politica in un tempo in cui, a livello globale, la difesa della democrazia liberale rappresentativa è tornata di grande attualità. Vi ringrazio e aspetto le vostre domande.